è una scomparsa del nostro sindaco, se capita di venire nel comune si senta ancora la sua forte presenza, è una sensazione che ci fa star male perché veramente è venuto a mancare la guida, non per niente teneva tutti quanti compatti, uniti nelle decisioni e di come bisognava trattare i propri concittadini, il modo affabile di fare e di dare loro dei consigli, ci manca mancherà questa cosa e non so fino a quando riusciremo a superare questo momento, è stato giusto fare ed inaugurare questa targa e quindi ringrazio il Consorzio Cimiteriale, il Presidente quando mi fu detto che c'era questa iniziativa, fui molto contento anche perché quest'area del cimitero ho un po' in parte contribuito io quando ero nel Consorzio Cimiteriale.